Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Investors Magazine Italia. Una serata dedicata, come spesso facciamo, alle 18 alla cultura finanziaria di altissimo livello. Questa sera vale la pena veramente di dirlo perché parliamo di un asset plus emergente che spesso viene trascurata dagli investitori anche grazie al fatto che probabilmente su di essa non si è creato quel flusso di cultura finanziaria sufficiente per poterla prendere in esame come asset class di portafoglio. È necessario però di approfondire questa materia, stiamo parlando delle criptovalute, stiamo parlando di un mondo con cui probabilmente avremo a che fare necessariamente nei prossimi anni. Da quando è nata la prima criptomoneta, il Bitcoin, 11 anni or sono, ormai sono passati 11 anni, la crescita delle criptovalute è stata costante nel tempo. Al di là di quello che sono le oscillazioni di volatilità a cui abbiamo assistito, è finalmente il tempo di valutare quale sia il miglior approccio professionale da dare a questa asset class, anche perché questo strumento finanziario nei prossimi dieci anni molto probabilmente continuerà ad avere uno sviluppo esponenziale, uno sviluppo estremamente significativo. Abbiamo chiamato per commentare questa materia, quello che io conosco essere come uno dei grandi esperti di questo mondo, proprio per il fatto di averlo studiato, analizzato a fondo da grande esperto dei mercati finanziario. Sto parlando di Daniele Bernardi che vedo collegato in questo momento. Daniele cortesemente se ci sei batti un colpo perché fra non molto ti passo la parola per la tua esposizione. Daniele vedo che sei collegato ma non hai il microfono attivo, prego batti un colpo se ci sei, in questo momento ti vedo attivo. Daniele ci sei? Non ti sentiamo purtroppo. a disposizione. Quindi controllo il video a Daniele Bernardi. Stiamo vedendo il tuo video con le tue slide. Sì, bene, un attimo che metto uso presentazione così lo vedete intero. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie di esservi collegati questa sera. Sono fiducioso che quest'ora sarà per voi interessante, almeno ovviamente me lo auguro. Devo partire ahimè con un disclaimer importante perché stiamo parlando di strumenti finanziari comunque, quindi noi essendo una società regolata abbiamo degli obblighi normativi, tutto quello che dirò è per rendere dotte le persone riguardo alla tecnologia blockchain e alle opportunità di investimento, con precisi anche dei rischi, una parte dei rischi. Ovviamente non è una presentazione a scopo promozionale di alcuno strumento finanziario e qualsiasi scelta di investimento voi decidiate di fare a seguito di questa iniziativa. Vi consiglio di farla supportati da qualche professionista, da un consulente o comunque qualcuno che può darvi necessaria consulenza nel tema. Allora, oggi volevo parlarvi di 14 punti. questi 14 punti sono riassunti in un libro barra ebook che verrà pubblicato nei prossimi giorni su Amazon e a cui vi verrà data a tutti i partecipanti un link per scaricarlo gratuitamente. però è chiaro che magari spiegarlo dalla viva voce può rappresentare... Daniela non ti sentiamo più grazie a tutti? Daniele sta riavviando di nuovo, mi scuso di questo inconveniente, ma era veramente imprevedibile perché siamo stati collegati con Daniele Bernardi una buona mezz'ora prima del webinar e tutto era perfetto, ma questo è purtroppo l'inconveniente della diretta. Parlavamo proprio di internet come parallelismo. Negli anni 90, per chi ha avuto la fortuna di vivere l'evoluzione, io ahimè sono vecchietto e quindi l'ho vissuta, per collegarsi a internet era molto complicato. Ci voleva un modem, un filtro per la DSL da attaccare alla rete, configurare il TCP IP e insomma era affascinante ma era complicato. Oggi questa tecnologia noi la abbiamo tutti disponibile in maniera molto facile, molto intuitiva, basta collegarsi a una rete wifi, l'abbiamo disponibile sui nostri smartphone, quindi ce l'abbiamo in tasca. Questa evoluzione è avvenuta in 25 anni circa, anche meno ovviamente perché il smartphone era il 2007, quindi già in dieci anni si era incominciata a avere questa evoluzione che è adesso accessibile a tutti. Perché vi dico questo? Perché quella che è la tecnologia blockchain che oggi sembra una cosa strusa per nerd, tra dieci anni probabilmente sarà nelle tasche di tutti noi. Allora vi invito a fare un gioco, quindi chiudete gli occhi un attimo, non succede niente perché tanto voi siete tranquillamente davanti al vostro computer, chiudete un attimo gli occhi e immaginate di prendere una macchina del tempo e andare nel 2029, a dieci anni non tanto distante, a dieci anni da oggi. A dieci anni da oggi il mondo sarà un po' diverso, non completamente diverso ma sicuramente sarà evoluto in certe cose e la società sarà molto più interconnessa, ancora più interconnessa. Purtroppo siamo ancora in crisi, Daniele non mi senti, Daniele non ti sentiamo più, abbiate pazienza ma questa sera siamo sfortunati con la tecnologia. Allora riprendiamo il concetto, scusatemi ancora. Immaginate appunto di essere in questo mondo tra dieci anni dove ci sarà ancora più connessione di quella che c'è oggi tra le persone, tra le società, tra le nazioni e tutto. Il possesso degli oggetti sarà tokenizzato, dopo approfondiremo questo tema, i pubblici registri saranno distribuiti, vuol dire che non dovrete più quando comprate la macchina andare al Pra a registrare davanti a delle persone un documento per averlo registrato in un registro che è governato dagli uomini, ma sarà distribuito e quindi modificabile e più sicuro, ma non solo il Pra ovviamente anche il pubblico catastro e via dicendo. Il vostro patrimonio sarà nel wallet, sarà nel cellulare, come la connessione con internet era solo sul computer e oggi ce l'avete sul cellulare, voi potrete avere tutto il vostro patrimonio nel wallet senza intermediari. Se ce ne pensate questo è abbastanza rivoluzionario, ma la società sarà cambiata perché ci saranno ancora ovviamente gli ultraricchi. Negli ultimi anni si è assistito a un divario sempre più alto tra gli ultraricchi e le persone comuni, però ci sarà una nuova categoria, sarà una nuova classe sociale che si chiamerà di ultra benestanti. Chi sono questi ultrapenestanti? Saranno le persone che sfrutteranno questo emergere di questa tecnologia e che gli permetterà di avere molta più libertà, molti più soldi e molta più potere d'acquisto di quello che hanno oggi. Chi ha creduto in Amazon nel 1995 oggi se non è un ultraricco è un ultra benestante e chiaramente bisogna crederci, però oggi abbiamo un'opportunità che per 15 anni, quasi 20, non avevamo più avuto. Bene, quindi tutto questo grazie alla blockchain, dicevamo, e la blockchain è una tecnologia che permette di registrare su un registro distribuito informazioni in modo sicuro e relativamente veloce. Cosa significa sicuro? Significa che non essendo sempre la stessa persona a registrare su questo registro le informazioni ed essendo questo registro distribuito a migliaia di persone, questa persona che scrive non può modificare le informazioni precedenti per trarne vantaggio, ma semplicemente deve scrivere la transazione che è stata autorizzata a scrivere. Questa tecnologia ha bisogno chiaramente di un reward, ovvero che le persone che tengono questo registro informatico e che ci scrivono occasionalmente dentro, che sono i cosiddetti miners, i minatori, abbiano un controvalore per il lavoro che fanno. E questo controllo valore è dato dal bitcoin, che viene minato per ogni singolo blocco che viene scritto sul registro distribuito e quindi li permettono di guadagnare da questo. Chiaramente il valore del bitcoin deve essere superiore all'energia spesa per generarlo. Come io sono un costruito, come io sono un costruito, come io sono un costruttore di macchine, costruisco una Mercedes e poi la vendo a un prezzo più alto di quella che l'ho costruito, ovviamente perché devo trarre profitto, anche il bitcoin deve valere più dell'energia spesa per costruirlo, per generarlo. Quindi il bitcoin ha un valore e questo valore è dato dalla scarsità e vi cerco di spiegare il concetto. Il cosiddetto total supply, ovvero l'ammontare complessivo di bitcoin nel 2040, quando sarà finito l'ammontare, quando verrà distribuito completamente tutto il bitcoin nel mondo, ci saranno 20 milioni. di bitcoin, perché un milione ce l'ha il fondatore Satoshi Nakamoto, che non li ha mai mossi e bisogna vedere se mai rimuoverà. Quindi al massimo 20 milioni di persone potranno possedere un bitcoin. Questo è il concetto di scarsità, cioè se, visto che siamo 7 miliardi, se tutti noi volessero avere un bitcoin, possedere un bitcoin, chiaramente ci sarebbe una lotta ad acquistare questi bitcoin e quindi il prezzo chiaramente salirà. Quanto salirà l'ha ipotizzato il fondatore Satoshi Nakamoto, perché ha previsto che il bitcoin abbia 8 numeri dietro la virgola. 8 numeri dietro la virgola significa che il bitcoin potrà valere, se un Satoshi, cioè una frazione, la frazione più piccola del bitcoin, il bitcoin varrà un euro, un dollaro, vuol dire che il bitcoin varrà 10 milioni di dollari. Questi valori possono sembrare assurdi, ma nella realtà vi assicuro che non è escluso che un giorno il bitcoin possa arrivare a questi valori. Perché? Perché mentre il dollaro è un valore finito, cioè un dollaro vale un dollaro, però ha una creazione di dollari potenzialmente infinita. Questo significa che la banca centrale americana, la Fed, può stampare quanti dollari vuole. Chiaramente stampare quanti dollari vuole, il dollaro come dollaro rimane un dollaro, ma se ne stampa troppi, il dollaro perde valore. Perde valore rispetto a cosa? Perde valore non rispetto alle altre valute in giro per il mondo che vengono stampate anch'esse a dei ritmi forse nati. Oggi siamo invasi dalla liquidità e questo si riversa sui bond che sono tassi negativi. Però non perde valore contro quello, perde valore contro altre entità che non hanno questo concetto di inflazione, della manunità in circolazione, ma hanno piuttosto l'effetto contrario. Cioè il bitcoin, avendo una creazione finita, cioè più di 20 milioni non ce ne potranno essere, ha un valore potenzialmente infinito. E questa è una cosa molto affascinante se ci pensate. È dovuta proprio al fatto che mentre il dollaro è inflattivo, il bitcoin è deflattivo, o quantomeno finito nella sua creazione. Poi il terzo motivo per cui è interessante investire sulle cripto è l'Ethereum. Io l'ho chiamato l'Ethereum la madre di tutte le cripto. Qui vedete un logo molto... scusate, ho voluto verificare che non si fosse impiantato un'altra volta. Un logo dell'Ethereum che ha un certo fascino. Il fascino lo riconosce chi studia i simboli sacri. La simbologia sacra è molto bella, vi invito a studiarla un po'. Se guardate, il logo dell'Ethereum corrisponde alla vescica piscis. La vescica piscis è un simbolo sacro che significa la creazione di tutte le cose. Vitalin Buterin, scusate, che è stato il fondatore dell'Ethereum, a mio avviso ha studiato questa simbologia sacra e ha voluto dare apposta questa simbologia all'Ethereum. Perché l'Ethereum in realtà è la madre di... Daniele, non ci sentiamo. Pronto? Sì, ti senti. È tornata? Sì, esatto. Maurizio è tornata? Sì, sì. Ti sentiamo di nuovo. Sì, sì, dai, è tornata. Scusatemi, adesso abbiamo capito come fare. Il Vitalin Buterin ha pensato sicuramente, come dicevo, di usare questo logo per evidenziare il fatto che l'Ethereum è la madre di tutte le cripto. In più, Ether è la sostanza, che viene chiamata anche vuoto, ma in realtà vuoto non è, dell'universo che fa passare la luce. Per chi studia fisica, l'Ethere è il vuoto che c'è tra un pianeta e l'altro. E quindi anche questo è un simbolo che ha voluto dare il fondatore dell'Ethereum come nome perché l'Ethereum basicamente è la fondazione su cui è permesso di poter creare tutta un'economia, tutta una tecnologia legata allo smart contract. Lo smart contract è un contratto digitale che stabilisce a priori le regole e quindi permette a chi lo usa di sapere quali sono le regole di funzionamento e quindi averne un'utilità che dopo approfondiremo. Pensate, per fare un esempio, a una compagnia assicuratrice, io ho visto una società tedesca, se non ricordo male, che ha fatto un contratto di assicurazione tramite smart contract sul ritardo aereo, per fare un esempio. Io prendo l'aereo, arrivo in ritardo a destinazione e come arrivo in aeroporto a 100 cellulare mi vengono già accreditati i soldi o gli etilium in quel caso per il ritardo dell'aereo. Il futuro sarà così, io non dovrò più star a negoziare con l'assicuratore il fatto di avere o non avere torto. Le regole sono chiare, se si verificano io ne ho immediatamente il beneficio. E questo porta al quarto motivo per cui le crypto sono affascinanti, ovvero gli utility token. Gli utility token, come quello che abbiamo creato noi, che è il fee token, è uno strumento basato sul smart contract che dà dei vantaggi all'utilizzatore. Questi vantaggi possono essere diversi, può essere un accesso a determinati servizi in maniera gratuita a cui sono obbligato, oggi c'è di oggi la notizia che Binance, il maggior exchange al mondo, per i possessori dei token, anzi no, scusate, è Bitfinex, che per i possessori del Leo, del loro utility token, riduce le commissioni di trading. Quindi io ne ho un accesso a una piattaforma e uno sconto sull'acquisto di beni e servizi. Binance ha fatto questo, noi abbiamo fatto un marketplace fintech dove io posso acquistare dei servizi finanziari a sconto, ma ci possono essere tante cose collegate, anche il possesso di un bene, come vedremo tra poco. Quindi l'utility token è un asset class che non esisteva, perché il prezzo non è associato al valore. Cosa vuol dire che il prezzo non è associato al valore? Vi faccio un esempio. Allora, l'esempio è questo. Immaginate, noi abbiamo una newsletter, che tra l'altro la distribuiamo anche tramite Investor, una newsletter di selezione di titoli azionari mensile, che viene venduta a 1000 euro all'anno. Allora, se voi andate sulla piattaforma sul marketplace openfintech.com, la comprate a 1000 euro, ma se la comprate tramite FITOKEN avete uno sconto del 30%. Allora uno dice, va bene, preferisco risparmiare 300 euro e andare e comprarlo a sconto. Allora, immaginate di volerla comprare. Al primo anno, immaginate che il prezzo del FITOKEN sia a 10 centesimi, io devo comprare 700 FITOKEN e dare a Diamant Partner 7000 FITOKEN. Poi, dopo un anno, vedo che la newsletter funziona, io guadagno con i titoli e lo voglio rinnovare. Chiaramente il marketplace sta crescendo, sempre più gente vuole avere questi sconti, quindi il prezzo del FITOKEN è salito a 1. Allora, a questo punto, me ne basta 700 da comprare per poter avere accesso al servizio. Per me che li compro, il prezzo è sempre 700 euro, non cambia. Cioè, io nel primo anno, secondo anno, ho sempre speso 700 euro. Li do a Diamant Partners e Diamant Partners mi eroga il servizio. Il terzo anno, c'è sempre più gente che usa il marketplace, io voglio rinnovare... Come al solito, c'è bloccato. Dicevo, il terzo anno mi bastano 70 token per acquistare il servizio, perché il prezzo è 10 euro. Per me è sempre indifferente, per Diamant Partners è sempre indifferente perché guadagna sempre 700 euro, ma la differenza qual è? Sono due. La prima è che Diamant Partners, conoscendo il meccanismo, una volta ricevuti i token non li vende subito, se li tiene. E se li tiene per tre anni e succede una cosa del genere, il valore dei servizi venduti sono 77.000 euro, non 2.100 euro. E questo fa la grande differenza. L'altra grossa differenza invece è per l'utilizzatore, perché se per un anno non riesce a pagare... Scusate, se il primo anno, sapendo che sarebbe cresciuto in futuro, avesse comprato 7.770 fee token, sapendolo che negli anni successivi gli sarebbe servito, lui con 777 euro avrebbe avuto accesso a dei servizi che in realtà valevano 2.100. E quindi questo strumento ha una potenzialità di crescita veramente elevato, perché essendo il numero di token finito, più gente gli interessa questo token, più il prezzo sale. Non è necessariamente un danno per qualcuno, è una grossa opportunità, perché io posso permettermi di comprare un Lamborghini al prezzo di una Panda, semplicemente aspettando due o tre anni che il valore salga, per fare un esempio. Ma vi faccio una provocazione, immaginate che Amazon emetta il suo Amazon coin, e che quindi vi permetta di avere anche semplicemente il 5% di sconto sull'acquisto dei beni e servizi. Cosa succederà al mondo quando Amazon, e vi assicuro che Amazon lo farà prima o poi, emetterà il suo Amazon coin per dare questa utilità ai suoi clienti? Quindi il concetto è che i crypto asset hanno una creazione finita e un valore potenzialmente infinito, l'abbiamo visto prima. Qui vi faccio il concetto di Amazon che vi ho già detto. Quindi comunque si sposta il valore da un prezzo di un titolo azionario, che io so che ha un fair value price, c'è un prezzo corretto perché è determinabile da tutta una serie di parametri, si sposta a un concetto di domanda offerta, e quindi più gente gli interessano le crypto, dopo vedremo meglio questo concetto, più il prezzo tenderà a salire. Soprattutto su token come il FITOKEN, che hanno anche dei modelli di riduzione dei token in circolazione durante il tempo. Cioè io lavorerò tutta la vita, lo so già, per rimanere con un solo FITOKEN, che ovviamente mi terrò io, e quel FITOKEN teoricamente avrà valore infinito, se ci pensate, perché man mano che si riduce il numero di token in circolazione, c'è sempre più gente che vuole quel token, e il prezzo tenderà a salire sempre di più. E questo, se ci pensate, è uno straordinario strumento di ribiglianciamento della ricchezza, perché oggi questa è l'opportunità, avere una piccola parte del patrimonio in questo strumento, pensando che tra pochi anni varrà molto di più. E per chi ci ha creduto già anni fa, è già successo. Molti sono scettici oggi, ovviamente. Io ero scettico nel 2013, quando ho avuto la concreta opportunità di investire sulle cripto. Oggi mi mangio le mani, perché se l'avessi già fatto nel 2013, oggi sarei già ultra benestante. Un altro motivo, il quinto motivo perché le cripto sono interessanti, è la tokenizzazione. La tokenizzazione è una tecnologia che permette di associare un bene a un token digitale. E quindi io, se posso tokenizzare una società, un quadro, una palazzina, posso anche suddividere il valore. Questo quadro che vedete, è un quadro di Andy Warren, è stato tokenizzato e venduto al 49% della proprietà di questo quadro. Sembra strano, però è chiaro che se questo quadro sale di valore, chi ha il token ne avrà un beneficio, perché lo potrà accedere ad altri a un maggiore valore. Questo nell'arte coinvolge chi è appassionato di arte, ma se ci pensate a una palazzina, o alle multiproprietà, il concetto di multiproprietà delle case, si potrà diffondere nuovamente meglio, perché io avrò il possesso di una settimana dell'appartamento, che ne so, alle Maurizius, grazie ai token. E se vorrò venderlo a qualcun altro, con i token lo vendo da un cellulare ad un altro in pochi minuti. Andiamo al punto 6. Il mercato si muove a bolle. Allora, voi sapete quante bolle ha fatto il Bitcoin fino adesso? Potete anche scriverlo sulla chat se volete. Vediamo se si vede. No, non interessa a nessuno di rispondere. Allora ve lo dico io. Il Bitcoin ha avuto tre bolle. La prima nel 2011, la seconda nel 2013, più o meno, e la terza nel 2000 più famosa, più gente l'ha saputo nel 2013. Ovviamente la prima non l'ha saputo nessuno, perché la diffusione dei Bitcoin era ancora poco conosciuta. Però questo è un grafico a scala logaritmica. Vedete che hanno perso il 91% del valore. Quindi il mercato, essendo dominato dalla domanda d'offerta, sarà sempre a bolle, magari sempre minore, fin tanto che si arriverà a una volatilità simile a quella dell'azionario, ma comunque si muoverà con queste logiche. È indubbio. E questo rappresenta un rischio enorme, perché se io compro preso dall'entusiasmo, perché tutti sentono parlare dei Bitcoin alla televisione, rischio di comprare ai massimi. Però se invece compro oggi, o compro nei momenti in cui c'è stata una forte correzione, io invece magari ho l'opportunità di guadagnare con delle percentuali a cui non sono abituato. Questo è dovuto a cosa? A la crescita esponenziale degli utilizzatori. Cioè, questo è un grafico preso dalla fonte Statista, è un sito di informazioni online, a pagamento, e praticamente mostra la crescita dei wallet dal 2011, quando è iniziata la registrazione, al 2019. Questa crescita è circa esponenziale, ha avuto un piccolo rallentamento dal 2018 della crescita, ma comunque sta ancora crescendo molto. E ha anche ricominciato negli ultimi mesi a crescere a tassi ancora più interessanti. Io ho scoperto che se vedo il prezzo del Bitcoin con questa retta che essendo il grafico logaritmico in realtà è una regressione esponenziale e il grafico del tasso di diciamo, di diffusione del numero di wallet in circolazione, vedo che c'è una relazione strettissima, c'è stata soprattutto fino allo scopo della bolla del Bitcoin, poi c'è stato un po' meno di ralentamento, ma adesso sta riniziando. un grafico, una relazione incredibile tra il tasso esponenziale di crescita del Bitcoin e il tasso esponenziale di crescita del numero di wallet in circolazione. Allora cosa ho fatto? Ho provato a ipotizzare cosa succederà da qua a due anni senza andare tanto in là nel tempo. Allora se il prezzo del Bitcoin dovesse muoversi lungo questa retta di regrezione esponenziale, il prezzo del Bitcoin tra due anni potrebbe anche essere superiore ai 100.000 dollari. Se invece continuasse lungo questa retta qui sarebbe che di solito comunque è sopra probabilmente sarebbe attorno ai 10.000. Quindi oggi rappresenta un'opportunità di investimento a mio avviso molto interessante perché non è questione di rischio rendimento qui, è questione di rischio opportunità. Io ho l'opportunità, una probabilità, piccola piacere, ma dopo vedremo anche le probabilità, che il Bitcoin raggiunga i 100.000 di valore in un tempo relativamente breve. E quindi investire oggi rappresenta comunque un'opportunità interessante. Allora cosa ho fatto? Per dare concretezza a, visto che siamo quantitativi, per dare concretezza a questo studio ho fatto una simulazione su dati storici. In realtà questo lavoro l'ho fatto nel 2017 quando il prezzo di Bitcoin era 8.000. Infatti non vedete la bolla scoppiata sul grafico perché Daniele si è scomparso. Eccomi qua. Dicevo nel 2017 ho fatto questo studio che riporto. Praticamente ho preso la media storica del Bitcoin cioè il 162% di rendimento annuo che è una roba impressionante e la volatilità storica media del Bitcoin che è il 79% di volatilità. Io ho simulato, ho fatto 10.000 simulazioni ovviamente qui ce ne sono poche per non complicare troppo appesantire troppo ho fatto le simulazioni per vedere dove potrebbe arrivare tra 10 anni il prezzo del Bitcoin cioè 10 anni nel 2017 quindi nel 2027 e vedete che questo vale 100.000 questo vale 1 milione 10 milioni e 100 milioni ci sono anche delle piccole probabilità perché ovviamente questa distribuzione dei rendimenti dopo descrive le probabilità che accada anche le piccole probabilità che vada sopra i 100 milioni ovviamente perché arrivi a 100 milioni considerato il concetto precedente della regressione esponenziale degli utilizzatori che aumentano questa qui significa che la curva di apprendimento degli utilizzatori del wallet dovrà continuare a crescere in maniera esponenziale per mantenere il trend e quindi nel 2025 noi dovremmo avere circa 1 miliardo 800 milioni di wallet aperti allora questa è una cifra ragionevolmente difficile da raggiungere anche se con i con i cellulari con i smartphone più che con i cellulari in poco tempo si è arrivati a numeri del genere però voglio pensare che che il tasso di crescita sia non sia così repentino per ragionevole approccio senza non voglio creare false illusioni allora ho fatto un altro ragionamento ho detto normalmente gli strumenti finanziari nei mercati hanno un rapporto tra rendimento e rischio il cosiddetto sharp ratio cioè uno strumento finanziario che ha volatilità uno non può rendere il 10% all'anno è impossibile anche anche matematicamente il mercato azionario l'equity ha una volatilità del 15 e un rendimento medio storico attorno al 7% 8% dipende dai periodi ovviamente allora io ho pensato di fare un una simulazione in Monte Carlo con lo sharp sostenibile inferiore a 1 cioè vuol dire con una media dei rendimenti del 64% all'anno e mantenendo la volatilità al 79% in questo caso comunque è chiaramente si è ridotta la crescita esponenziale del prezzo del bitcoin però vediamo che le possibilità che arrivino a 10 milioni ci sono ovviamente non sono più così alte ma ci sono e sulla base di questa simulazione più ragionevole ho ipotizzato ho fatto un grafico sulle probabilità che il prezzo del bitcoin stia sopra a un determinato valore allora quello che vedete è un grafico che dice che man mano che passa il tempo le probabilità che il prezzo del bitcoin stia sopra il valore di 5 mila sono circa il 90% ma quello che è interessante è che queste curve un po' alla volta convergono e le probabilità che il prezzo del bitcoin che nel 2018 erano zero praticamente di avere un valore superiore a 50 mila man mano che passa il tempo le probabilità che il prezzo del bitcoin superi 50 mila diventano maggiori del 50% nel 2023 quindi questo è come si legge questo grafico tenendo conto di uno sharp ragionevole cioè tenendo conto che il bitcoin non continuerà a crescere ai ritmi che è cresciuto oggi e questo è comunque un altro motivo interessante per investire sulle cripte adesso passiamo alla seconda parte cioè agli ultimi agli ultimi sette punti che riguardano invece l'investimento vero e proprio allora qui ho preso un grafico realizzato da PricewaterhouseCoopers c'è un report in internet che potete scaricare che riguarda i fondi alternativi che investono in criptovalute nel 2018 come si sono mossi allora la linea gialla è il prezzo del bitcoin che ha perso più del 70% nel 2018 scusate le altre due linee sono gli hedge fund che hanno che usano modelli fondamentali e modelli discrezionali la rosa e la grigia e la rossa invece è rappresentata da gli hedge fund che usano modelli quantitativi che sono riusciti credo che sia un concetto di legge di marchi ogni volta che dico cerco di dire qualcosa di interessante il go to webinar mi tradisce stavo dicendo i fondi alternativi che investono con metodologie quantitative sono riusciti a dare un rendimento positivo anche nel 2018 in media ovviamente e questo è uno stimolo che ci ha portato poi a voler creare anche uno strumento del genere perché è importante il drawdown cioè contenere le perdite perché probabilmente molti di voi avranno già visto questa logica questo grafico se io investo 100 euro sui mercati finanziari qualsiasi essi siano anche un BTP e questo perde il 10% del valore per tornare al mio valore iniziale devo fare l'11% se perdo il 20% devo fare il 25% e se perdo il 50 devo fare il 100% perché mi trovo con 50 euro e devo tornare a 100 euro di solito quando facevo la presentazione dei mercati finanziari mi fermavo a questa slide nelle cripto in realtà si può arrivare a perdere il 90% sappiate che il 97% delle criptovalute nel 2018 ha perso più del 90% quindi non è la questione di scegliere la criptovaluta giusta è una questione di rischio sistematico del mercato il mercato ha perso il 90% e potevi avere qualsiasi coin il bitcoin ha perso un po' meno ma ha perso l'86 quindi non è che ci salvavamo ma per tornare al valore iniziale da 10 euro devo fare il 900% e le cripto sono in grado di farlo però se io faccio una tecnica buy e hold si è vero nel lungo termine guadagno ma nel medio termine butto via un sacco di energia potenziale perché devo tornare ai valori iniziali quindi qui introduciamo un altro concetto cioè fare market timing sul crypto asset chi ci conosce sa che facciamo market timing dal 2002 e chi gli interessa gli possiamo anche fornire il track record delle gestioni patrimoniali che abbiamo che smascherano tutti quelli che dicono che il buy and hold è la tecnica migliore per investire fa venire più mal di pancia e alla fine rende meno del market timing allora noi di Diamant abbiamo sviluppato un modello insieme al professor Bertelli che si chiama Diamant Ratio che abbiamo presentato in varie conferenze in giro per il mondo e anche pubblicato su una rivista specializzata che sostanzialmente è la regressione lineare di una serie storica nel tempo qui vedete il prezzo del bitcoin in questo caso forse sì sì è un esempio del bitcoin nel 2011 prima di scoppiare base 100 era passato da 100 a 1400 in poco tempo la retta di regressione era molto positiva questo significa che io in tutto questo periodo sono stato investito poi ha iniziato a perdere valore e la retta di regressione è diventata negativa quando la retta di regressione diventa negativa significa che le expected return futuri cioè i rendimenti attesi futuri diventano negativi essendo una retta di regressione una linea di tendenza che mi fa capire qual è il trend di mercato e quindi in questo caso saremmo usciti dal mercato poi il mercato il bitcoin ha continuato a perdere e noi stando fermi avremmo evitato questa ulteriore perdita che da 2005 arriva a 500 anche meno è stato quel 91% che abbiamo visto prima quindi questo è un esempio chiaramente didattico però su base poi forse settimanali dove mi dice io sono stato investito fino a qua da qua ho tolto poi qui c'è stato un falso segnale qui un altro falso segnale per carità dopo qui un segnale più positivo e via dicendo allora noi questa logica l'abbiamo applicata ovviamente sulla serie storica del bitcoin da base 100 nel tempo e chiaramente è riuscito a smussare in parte questo è quello che avete visto prima è riuscito a smussare benino qua molto meglio qua e molto bene anche nel 2008 quindi non si vede questa logica ci permette di fare di aver fatto chiaramente un backtest però non ottimizzato con un indicatore statistico che abbiamo pubblicato in tempi non sospetti il 437% contro il 340% del bitcoin con una volatilità praticamente quasi uguale però con un share prezzo molto superiore e questo ci fa pensare che applicare tecniche di timing hanno un doppio valore il primo dicendo che fare market timing fare market timing ci permette di aspetta che chiudo un po' di roba in internet ci permettono di avere due vantaggi uno ridurre le perdite nei periodi di sgonfiamento delle bolle e due comunque di ottenere quantomeno il rendimento del mercato se non meglio quindi adesso permettetemi di fare un piccolo un piccolo spot pubblicitario su Diamant per chi non ci conosce Diamant che ha iniziato nel 2002 a fare modelli quantitativi ha un track record questo è un track record di una banca nostra cliente banca patrimoni che nel tempo ha dato un ottimo risultato rispetto al Morgan Stanley World che è la linea azzurra questo è il track record reale ma quello che è più interessante è il massimo drawdown che è significativamente inferiore a quello del mercato e poi dovrebbe esserci anche la grafica dove si dove si vede il vero vantaggio si vede che quando quando le crisi di mercato che sono le barre rosse questo è il Morgan Stanley World non sono state elevate non abbiamo offerto un valido vantaggio al cliente però quando ci sono le crisi vere quando ci sono le crisi vere noi limitiamo le perdite e questo si trasforma in mesi di vantaggio a ritornare i nuovi massimi con nella crisi del 2008 i clienti che erano dentro questa linea che sono tanti ci hanno messo 22 mesi quindi meno di due anni a tornare ai nuovi massimi del 2007 mentre il Morgan Stanley World ci ha messo 77 mesi mi sembra 77 mesi sono un sacco di anni sono 6 anni abbondanti per ritornare al valore iniziale e qui il vero valore aggiunto nell'usare modelli quantitativi per la gestione dei soldi allora come funziona in realtà il nostro modello noi abbiamo creato un comitato di investimento quantitativo l'abbiamo chiamato abbiamo messo 5 formule matematiche che ogni giorno nel caso delle cripto ogni settimana nel caso dell'equity votano per ogni singolo strumento se stare investiti o non stare investiti dopodiché c'è un modello di artificial intelligence non particolarmente sofisticato però intelligente che mi determina in base a come alla situazione di mercato attuale ai pattern di mercato cioè trend rialzista trend ribaltista o fase laterale quanti indicatori mi servono per entrare e quanti indicatori mi servono per uscire fatto questo ogni nel caso del cripto ogni giorno se si decide di uscire da una cripto un modello di algorithmic trading entra sugli exchange e vende le cripto le sposta da un call wallet e le vende le cripto ma questi sono dettagli abbiamo fatto un backtest su questa cosa qui senza ottimizzazione perché questa è la formula che usiamo nell'equity semplicemente riscalata a un giorno tolti i costi di management fee e di performance fee ipotizzati e questo è il backtest che viene che viene fuori le statistiche di rendimento di un modello quantitativo del genere rispetto a un buy and hold sono molto interessanti ma al di là della performance che è passata scusate è passata e bisogna vedere il futuro come sarà vediamo se adesso si blocca il go to meeting è il massimo dello down che è interessante cioè il modello quantitativo ha perso il 52% contro l'88% del paniere delle cripto che noi abbiamo tradato e questo significa è comunque una perdita molto elevata ma con una volatilità dell'80% ci sta rapportata al mercato azionario sarebbe come se una strategia sul mercato azionario con una volatilità del 15% perda perda attorno all'8-9% quindi niente male allora questo ci ha dato la forza di fare un track record reale quindi da ottobre dell'anno scorso noi in realtà stiamo affinando i modelli soprattutto di algoritmi trading ma affinando i modelli per comprare e vendere le cripto un paniere in questo caso di 10 criptovalute e come vedete il buy and hold in questa fase ha perso il 60% del valore e quindi il 60% significa che io devo fare il 150 il bitcoin ha fatto e le cripto non ha fatto quindi aver perso solo il 22 25 come punto minimo ci ha permesso di tornare ad avere i soldi precedenti molto prima e molto più velocemente e di guadagnare ben di più quindi in questo caso l'efficienza è ancora maggiore perché abbiamo perso meno della metà e abbiamo stiamo guadagnando molto di più E2D significa Inception To Date o vuol dire dall'inizio Year To Date vuol dire dall'inizio dell'anno chiaramente dall'inizio dell'anno che significa circa qua il modello buy and hold ha fatto meglio perché noi non abbiamo dovuto aspettare che ci fosse un trend fatto bene per tornare a comprare però le performance di uno strumento del genere sono tutt'altro che insensibili penso a tutti voi e poi passiamo al dodicesimo punto allora qua ho voluto riportare una frase che mi disse il professor Corrielli con cui abbiamo un ottimo rapporto da anni dell'Università Bolconi lui è professore di finanza quantitativa che la volatilità è il prezzo da pagare per liquidare tutti i giorni i propri investimenti allora immaginate voi pensate che la vostra casa in realtà non abbia oscillazioni ma perché semplicemente non la mettete in vendita tutti i giorni se voi avete fuori casa un tablet e dove la gente può indicare il prezzo della vostra casa vi rendereste conto che la casa vale molto meno di quello che pensate oppure che comunque il prezzo tutti i giorni cambia e quindi cosa succede declinandolo nel mondo delle criptovalute io ho tre possibilità la prima è di fare il trading cioè mettermi solo le criptovalute le statistiche dicono nei mercati finanziari ma si traduce anche nelle cripto forse sarà un po' meno che il 90% dei trader nel lungo termine perdono soldi io non voglio offendere nessuno ci sarà sicuramente tra di voi qualcuno che lo fa però chi lo fa e lo fa con successo sa che non è per niente banale soprattutto se il mercato il mercato ha una volatilità dell'80% il mercato di riferimento oppure l'alternativa sarebbero gli ucis fund cioè i fondi comuni che però oggi non permettono di fare questo investimento oppure un'alternativa l'alternativa è un edge fund cioè un alternative investment fund questi strumenti normalmente hanno valorizzazione mensile la valorizzazione mensile su uno strumento che ha la volatilità dell'80% non è per me molto intelligente molto indicato se dovrete investire su uno strumento del genere assicuratevi che abbia volatilità almeno settimanale scusate il nav la valorizzazione almeno settimanale perché nel bene non male se io devo decidere di uscire dopo che per un mese magari ha fatto il 100% e io voglio uscire non devo aspettare un mese che magari lo riperde per poterci uscire devo poter uscire molto velocemente quindi questo è un aspetto critico da tenere in considerazione il tredicesimo punto è anche questo molto interessante è la correlazione che c'è tra il bitcoin che qui è xbt con xbt contro scusate xbt contro dollaro rispetto alle altre alle altre asset class vedete che praticamente rispetto allo standard and poor ha un governativo alle commodity o al topic praticamente ha una correlazione se non negativa pari a zero sia a livello weekly che a livello monthly cioè a livello mensile e questo cosa ci introduce ci introduce un concetto molto interessante se io ho correlazione zero tra due strumenti finanziari metto l'insieme non mi altera la somma delle due volatilità mi spiego meglio molti di voi mi auguro conosceranno il concetto di risk parity se no ve lo spiego velocemente il risk parity è un approccio dove io decido un budget di volatilità emetto la quantità degli strumenti finanziari anche con una volatilità superiore per una dose inferiore a uno faccio un esempio io voglio un portafoglio che ha volatilità 7 l'equity ha volatilità 15 quindi devo mettere il 50% di equity in portafoglio in modo che ho il 7% di volatilità ovviamente questo va combinato se io l'equity e il bond fossero correlazione ripeto il concetto scusate perché ho visto che si è interrotto sostanzialmente se io ho l'equity che ha volatilità 15 le compro il 50% vado a volatilità 7 se la asset class che inserisco ha correlazione 1 con l'equity per dire il bond avesse correlazione 1 in realtà la correlazione tra bond standard and poor è 0 30 però se avesse correlazione 1 e il bond a volatilità 3% la somma del 50% di bond che è 1,5 più il 7% mi porta il portafoglio all'8,5% se avesse correlazione meno 1 il 7% diverrebbe il 5,5% se a correlazione 0% sostanzialmente io non non impatto tra virgolette non faccio differenza di non impatto sulla volatilità complessiva di portafoglio quindi avendo correlazione 0 le criptovalute io posso fare questa logica di risk parity cosa significa risk parity significa che se io ho un portafoglio che ha l'80% di bond e il 20% di equity che in teoria è un portafoglio prudente in pratica per me è un portafoglio idiota perché oggi avere l'80% di equity scusate di bond con tassi negativi non è un portafoglio proprio intelligentissimo sempre non voglio offendere nessuno ma ma è la mia opinione con con il bond ai tassi negativi se con questo portafoglio il mio aspect del return nei prossimi tre anni annuale è dell'1,5% se sono fortunato e si viva bene basato poi sui dati storici passati quindi ahimè potrebbe essere molto meglio molto peggio con la volatilità del 4,1 se ci introduco il 2% di crypto che ovviamente le crypto hanno l'80% di volatilità ma ci introduco solo il 2 mantengo la stessa volatilità del portafoglio quindi non impatto sulla volatilità del portafoglio se non marginalmente però il mio expected return passa dall'1,5% al 6,1% solo con il 2% di portafoglio inserito nell'asset allocation quindi questo è il concetto di investire in maniera professionale cioè io cerco di mettere la dose omeopatica piccola piacere che mi permette di mantenere inalterato o quasi inalterato il mio profilo di rischio ma mi permette di alzare l'expected return se il portafoglio è un 50-50 50 equity 50 bond la volatilità è attorno al 6,8 in questo caso mettere il 5% di criptovalute per di più che ogni volta che raggiunge il 10% io le ritorno al valore del 5% per non esporre troppo al rischio di criptovalute del portafoglio quindi una specie di cost and mix per gli esperti il mio expected return al netto dei costi è del 14,8% che è molto interessante praticamente uno sharp ratio attorno al 2 se invece sono un investitore molto aggressivo che ha il 100% in equity se ci metto il 10% in criptovalute porto un expected return a valori difficili da da immaginare ma potenzialmente raggiungibili in base a cosa l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto in base a un simulatore che dopo vi mostriamo questo cosa significa guardandolo da un punto di vista di risk opportunities cioè non da un punto di vista di rischio e rendimento io ho quattro situazioni non investo in cripto quindi indipendentemente che le cripto vadano bene o che guadagnano io ho scritto no way cioè non c'ho speranza la mia visione per i prossimi tre anni poi non so la vostra magari dopo ne dibattiamo se volete è che con i bond tassi negativi e l'equity che ha corso per tanti anni e che oggi è pompato dall'eccesso di liquidità che c'è sarà veramente difficile in tre anni guadagnare se non adottando strategie alternative negli investimenti se io invece investo in cripto qui ho il concetto di di risk opportunity cioè se mi va male posso perdere dal massimo del 5% che ho investito in portafoglio questo è nell'ipotesi di aver inserito il 5% in un portafoglio bilanciato se va male perdo al massimo il 5% ma se va bene posso guadagnare più del 50% in tre anni e quindi è molto asimmetrico il payoff di questa risk opportunity è chiaramente molto meglio avere il avere il questo questo ragionamento noi abbiamo creato un simulatore in Excel dove io posso configurare la parte di bond la parte di equity nel portafoglio il costo di gestione nel portafoglio volendo e e poi anche che percentuale mettere all'inizio di in cripto voluta ovviamente sono dati passati ma più di questi non abbiamo e quando io ritorno alla percentuale di base se qui metto 3% qui metto 6% ovviamente ogni volta che il mio portafoglio arriva al 6% vendo il 3% e mi porto a casa noi ci siamo divertiti a fare delle simulazioni anche a capitale garantito dico il 95% lo metto in cash e il 5% lo metto con questa logica e se proverete questo simulatore vi renderete conto che con una strategia del genere chi l'avesse fatto ovviamente ma probabilmente sarà anche chi lo farà da oggi in poi ha fatto più del doppio dello standard in poor investito al 100% con una volatilità molto inferiore e un drawdown molto inferiore chi chi gli interessa questo 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 simulatore può mandare una mail di richiesta a marketing at diamant punto partners e noi saremo ben lieti di inviarvelo gratuitamente perché comunque è uno strumento molto carino dove io ho anche come mi migliora la frontiera efficiente con l'inserimento della cripto come mi migliora lo sharp ratio e via dicendo questo era l'ultimo punto e quindi passiamo alle conclusioni e poi le domande e risposte allora per chi volesse approfondire la possibilità di investire attraverso alternate investment fund può fare una richiesta marketing at diamant punto partners noi stiamo lanciando un fondo alternativo ma non possiamo dare nessuna disclosure perché questo è un webinar aperto e le normative le normative impediscono di fare marketing a persone a persone non professionali a investitori non professionali quindi vige il regime di reverse solicitation se voi ci chiedete informazioni e noi verifichiamo che voi avete le caratteristiche siamo ben lieti di darvi le informazioni questo investimento per chi non è un investitore professionale secondo la Mifid può comunque accedere a una strategia che avrà tra il 5 e il 10% di crypto asset all'interno attraverso la nostra piattaforma open finance la open finance è una piattaforma di gestione patrimoniali aperta dove alcune di queste linee di gestione avranno la possibilità investiranno oltre in equiti in bond dopo ognuna di queste linee ha la sua strategia vi permette di poter accedere anche con la dose omeopatica scelta da noi a questa tipologia di investimento per ultima cosa vi abbiamo promesso l'ebook sulle crypto con i 14 punti Amazon purtroppo l'abbiamo caricato su Amazon ma ci richiede l'altro giorno ci richiede 72 ore quindi ragionevolmente 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 mercoledì sabato domenica avrete riceverete un codice una mail con un codice con un codice per poterlo scaricare gratuitamente scusami Daniele lo ricevono lunedì qui c'è un po' di bibliografia con le varie con i vari paper da cui sono tratti poi gli studi che noi abbiamo fatto che avete visto oggi quindi se volete potete studiare e vi ringrazio e se avete domande sono qua a disposizione per sì Daniele mi senti Daniele? Daniele? Maurizio a te sì perfetto mi senti Daniele? no sembra che Daniele non sta sentendo volevo dire che appunto la mail è rendita nella giornata di lunedì Maurizio io non ti sto sentendo eh sì di fatto ho visto però non pronto? sì Daniele io ti sento ecco noi ti sentiamo perfetto e non sentivi il mio audio stavo dicendo stavo dicendo la email viene inviata lunedì Daniele nella giornata lunedì a tutti a tutti i partecipanti così sono sicuro che sarà su Amazon esatto così siamo sicuri tutti anche perché ecco c'è solo alcune domande che volevo porti ho fatto un riassunto delle numerose domande arrivate cercando di condensarle per argomento sostanzialmente la maggior parte delle domande nella fase iniziale del webinar erano riferite al momento in cui tu spiegavi il concetto di scarsità no? e quindi legato al concetto di scarsità la probabilità statistica che la criptomoneta acquisti valore in funzione della naturale scarsità tendenziale del tempo ora gli ascoltatori sono posti questo in questo quesito ovvero se il fee token finisce supponiamo su una criptovaluta per cui diventa particolarmente oneroso la gente probabilmente gli investitori si spostano su un'altra cripto quindi c'è alcuni parlano di diciamo di concorrenza tra i token per cui probabilmente questo fenomeno loro chiedono di tendenziale aumento del prezzo potrebbe non verificarsi per la naturale competizione che esiste per le diverse cripto beh allora beh chiaro la competizione si è vista allora analizziamo un po' per chi non l'ha non l'ha vissuta o anche per chi l'ha vissuta la bolla che è scoppiata nel 2017 no? sì nel 2017 dicembre i prezzi del bitcoin è salito da 3.000 a 18.000 in tre mesi dovute a un fattore il fattore che il Chicago Board Option Exchange il CME cioè il Chicago Mercantile Exchange hanno emesso il future sul bitcoin sì per emettere il future sul bitcoin per emettere il future sul bitcoin il market maker hanno dovuto necessariamente acquistare bitcoin per poi potersi coprire questo fenomeno ha fatto in modo che sono entrati solo due diciamo operatori istituzionali all'interno di una pozzanghera chiamato bitcoin no? e questo ha portato a questa crescita esponenziale troppo repentina del del prezzo del bitcoin che poi nel momento in cui sono partiti i bitcoin future e quindi questi operatori non hanno più bisogno di comprarne ancora si è sgonfiata quasi con la stessa velocità con cui era cresciuta questo fenomeno però cosa si è tradotto si è tradotto anche nel fatto che tanta gente ha venduto il bitcoin e ha comprato per dire l'ethereum in quella fase tanto è che tant'è che mi sa che si era bloccato si esatto ecco stavi spiegando che molte persone in quella frangente hanno comprato per esempio l'ethereum si si è spostato tutto sull'ethereum e poi dopo comunque si è sgonfiato tutto quindi un po' questo fenomeno esiste però è marginale perché la bolla non è scoppiata perché non c'era competizione perché in quella fase lì siamo passati da qualche centinaio di token a 2000 token quindi e la crescita del bitcoin ha fatto sì che questi token potessero nascere e esistere poi il token nasce esiste e starà lui dimostrare di valere faccio un esempio nella bolla del 2000 del new economy amazon che era stata listata nel 95 nel 2000 era cresciuta notevolmente tra il 2000 marzo del 2000 e primi del 2001 aveva perso il 95% come l'avevano perso quasi tutti no quasi tutte le i concorrenti della new economy non si è salvato nessuno però adesso amazon quota 1400 volte di più del massimo del 2000 ok quindi chi ha creduto in amazon è diventato milionario anche investendo piccole cifre ma quando è scoppiata la bolla come c'era amazon c'era anche pets.com io me la ricordo perché era venuta fuori proprio pochi giorni prima nello scoppio della bolla e pets.com era un sito che vendeva cioè che aveva che voleva vendere cibo per animali cose per animali ma era un sito praticamente vuoto non aveva neanche i sistemi di pagamento però ha raccolto 150 milioni in questo sito ovviamente pets.com non esiste più questi avranno anche realizzato un sito che oggi realizzarlo costa forse 500 euro e l'avranno anche realizzato ma non hanno avuto successo quindi non vuol dire perché io realizzo un token automaticamente avrò successo perché il token abbia successo deve crearsi la sua community deve dare un valore aggiunto a chi ce l'ha e deve crescere organicamente un po' alla volta nel tempo altrimenti altrimenti dove mi sono fermato altrimenti dicevo questo fenomeno che dicono gli ascoltatori del webinar ci sta però è marginale perché le cripto oggi compreso il bitcoin rappresentano circa 200 billion 200 billion oggi è una società di gestione tipo pioneer probabilmente quindi è nulla per i mercati finanziari e fenomeni veri si avranno di crescita il bitcoin si avranno ragionevolmente a ottobre se la SEC approverà finalmente gli etf tenete conto che due società di etf hanno girato la normativa e hanno deciso di lanciare gli etf per professional e institutional clients e quindi a breve ci saranno soldi di questi clienti istituzionali che entreranno attraverso gli etf in questa pozzangra ma come sta nascendo il nostro hedge fund gli hedge fund oggi che noi mappiamo nel mondo sono poco più che 40 probabilmente ce ne sarà qualcuno in più ma sono nulla e quindi quando inizieranno arrivare player sempre più grossi che metteranno sempre più soldi in questa pozzangra la pozzangra diventerà un lago e quindi è un'opportunità della madonna oggi poter investire su una pozzangra con un'alta probabilità che diventi un lago chiaramente io vorrei fare una metafora a uno può piacere o meno può essere convento o meno degli investimenti in criptovalute però è come la metafora è come dire le cripto sono il peperoncino io non mi interessa sapere quante calorie ha 100 grammi di peperoncino perché non mangerò mai 100 grammi di peperoncino il peperoncino lo metto su un piatto di pasta asciutta con le vongole spero che non ci sia nessuno allergico al peperoncino ormai non posso più cambiare non posso più cambiare la metafora mi perdonere il 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 peperoncino lo metto sulla pasta asciutta con le vongole la certezza che il go to meeting lo fa stavi spiegando quando metti qui il peperoncino sugli spaghetti alle vongole si quando metto il peperoncino sugli spaghetti alle vongole io rendo un piatto insipido un po' più piccantino e quindi è l'insieme organico che mi fa il piatto non è il singolo ingrediente un investimento in cripto è un singolo ingrediente che rende un po' più piccante ovviamente se non se ci metto 100 grammi ma devo metterci una dose omopatica è una dose piccola piacere io ci rendo piccantino il mio piatto ma se continuiamo la metafora e pensiamo che gli spaghetti rappresentano un piatto a calorie negative avevo detto prima un portafoglio 80% bond 20% equity per chi ce l'ha per chi fa il consulente finanziario viene considerato prudente oggi è per nulla prudente con i tassi di interesse negativi se mi va bene perdo l'uno se mi va male posso perdere molto di più un portafoglio così devo metterci peperoncino altrimenti è come avere un piatto di spaghetti a calorie negative che calorie negative sono un casino ok le calorie negative sono un problema cioè se io più mangio tendo a sparire e quindi posso permettermi di avere un piatto a calorie negative è una metafora che chi fa il consulente finanziario credo che capirà bene Daniele scusami l'ultima domanda veramente con risposta estremamente sintetica per tranquillizzare alcuni ascoltatori ma se io posseggo delle criptomonete quindi bitcoin piuttosto che dell'ethereum o altre posso riconvertirle in monete ordinarie in euro in dollari certo certo però lo scopo del libro che poi leggerete è proprio questo cioè oggi investire in cripto direttamente cioè fare trading è ancora complicato è come il telefono che abbiamo visto all'inizio del webinar il modem devo collegarlo devo configurarlo devo farlo oggi nelle cripto ho devo avere il wallet con la chiave pubblica chiave privata devo store sicuro devo avere il two factor authentication per sicurezza devo aprire un conto sull'exchange cioè elimino gli intermediari ma oggi non sono pronto a fare a meno degli intermediari con le cripto io potrò fare a meno della banca andrò direttamente al nasdaq a comprarmi le azioni dell'apple tokenizzate ma oggi il mercato non è ancora pronto oggi non esistono ancora gli smartphone però in realtà esiste la tecnologia è questione di tempo perché io quando avrò uno smartphone che mi fa un three factor authentication mi guarda l'iride mi sente il mi sente il dito e sente la mia voce e mi fa accedere al mio wallet io lì sono iper sicuro iper blindato e questo arriverà allora quando arriverà questo detenere in banca i miei titoli azionari o detenerli nel mio wallet sarà più conveniente detenerlo nel mio wallet perché comunque anche se mi rubano il cellulare nessuno avrà i tre factor per accedere al mio wallet personale sempre oggi ci sembra inquietante ma quello che sembra inquietante alle volte è quello che ci serve proprio per prevenire quello che avverrà e magari prevenire quello che avverrà come hai spiegato tu può farci appartenere perché no a quella categoria futura di benestanti che andrà a crearsi in funzione dei fenomeni che tu c'hai brillantemente spiegato malgrado le difficoltà tecnologiche no no ma non sono internet purtroppo ha un'incognita in realtà mega benestanti ce ne sono già tanti io ne conosco diversi che sono diventati milionari con le cripto eh sì sì no no anche io quindi significa che significa che comunque un qualche cosa in cui credere tendenzialmente può essere può essere positivo nel modo che tu ci hai illustrato cioè con il concetto di prudenza di saggezza di diversificazione di portafoglio una porzione all'interno del portafoglio gestita a sua volta con una diversificazione naturale come immagino eh hai previsto nei tuoi metodi nelle tue metodologie di negoziazione sulle sulle cripto è chiaro che tutto questo fa assumere alle criptovalute un aspetto ben diverso e certamente molto più professionale un approccio molto più credibile professionale di quello che purtroppo certa industria finanziaria o talvolta addirittura anche la televisione magari anche senza volerlo i giornalisti talvolta riescono veramente a travisare la realtà comunque ci hanno illustrato in un modo molto diverso come un mondo molto pericoloso un mondo dove le persone sono rovinate e così via è uno strumento finanziario è uno strumento finanziario dove Daniele Bernardi ci ha sostanzialmente resedotto che può essere utilizzato brillantemente all'interno di un approccio professionale di portafoglio e credo che questo sia il messaggio fondamentale diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per lunedì dove Daniele ci renderà disponibile il link per il suo libro io ho avuto l'onore di leggerlo in anteprima e grazie anzi a questo a Daniele Bernardi Daniele grazie per avermi consentito questo l'ho letto con molto piacere con molto entusiasmo e mi è sembrato un'opera veramente molto molto interessante avrà sicuramente successo il solito esagerato grazie avrà sicuramente successo su Amazon ma soprattutto grazie di aver gratificato il nostro pubblico di questo omaggio pubblico che ha resistito fino all'ultimo in gran numero malgrado le difficoltà tecnologiche grazie se posso fare un invito quando leggerete il libro se vi piacerà mettete una recensione positiva e magari suggerite anche ad altri amici perché ritengo che la differenza tra ignorarle e cavalcarle è troppo grande per non cavalcarle certo certo grazie ancora Daniele della della lezione di consulenza finanziaria di cultura finanziaria che ci hai dato questa sera i web della nostra cultura finanziaria proseguono dal lunedì in avanti ce ne saranno quattro la prossima settimana troverete come al solito sui siti riceverete i nostri inviti quattro serate dal lunedì al giovedì dedicate alla cultura finanziaria nella prossima settimana e quindi l'appuntamento è già per lunedì prossimo e se posso aggiungere se posso aggiungere abbonatevi a Investor se non vi siete già abbonati che ne vale la pena assolutamente grazie per averlo ricordato al nostro pubblico grazie per la tua voce autorevole anche in questo senso l'abbonamento a Investors è un investimento che vi ritorna grazie a tutti ancora della pazienza nell'ascoltare e grazie del vostro entusiasmo nel dare la vostra approvazione a questo webinar come sto vedendo adesso dalla bacheca arrivederci a tutti alle prossime edizioni dei nostri webinar ciao a tutti ciao